ci siamo ci siamo accomodati in studio perché prima di riprendere il filo del food in questa giornata particolare come ogni venerdì andiamo invece a riprendere i temi dell'inclusione lo facciamo con graziano leuzzi presidente dell'associazione gli amici di san pio buongiorno graziano ben trovato buongiorno a tutti i telespettatori oltre che è con te come di consueto ci saranno altri ospiti con i quali parlare dei temi dell'inclusione c'è anche un evento alle porte ma ecco ma prima di ogni altra cosa lanciamo la nostra sigla dunque eccoci pronti per parlare di inclusione come ogni venerdì e come detto lo facciamo con graziano leuzzi presidente degli amici di san pio e con illustri esponenti dell'associazione fish federazione italiana per il superamento dell'handicap c'è ancora tanto da fare le nostre città la nostra società sta lavorando tanto per l'inclusione però bisogna tenere sempre alta la guardia perché è un'attenzione che appunto deve essere sempre ai massimi livelli e che deve riguardare un po tutto vero come abbiamo anticipato le norme ci sono dobbiamo solo applicarle ecco del resto è anche vero questo che le norme sono ce ne sono già tante e dobbiamo fare in modo che vengano rispettate io sul facendo bene aiutare dal mio dispositivo vi ricordo che oggi parleremo di accessibilità dei mezzi di trasporto lo faremo con l'avvocato falabella rappresentante del consiglio nazionale del terzo settore presso il cnel oltre che presidente nazionale di fish e con michele adamo consigliere della giunta nazionale di fish prima ancora però graziano con l'aiuto della regia vorrei anche soffermarmi un attimo sull'evento che mercoledì 30 ottobre ci sarà a san giovanni in rotondo in occasione del world stroke day la giornata mondiale del dello stroke dell'ictus e ci vengo particolarmente perché la mia disabilità proviene proprio da un evento come lo stroke come l'ictus quindi un evento che ci vengo a organizzare tutti gli anni siamo partiti l'anno scorso è un evento organizzato della nostra situazione sotto la supervisione di fish e con la collaborazione di caso lievo della sofferenza quindi con la neurologia la neurologia di caso lievo della sofferenza ecco complimenti davvero anche per questa iniziativa che si svolgerà come detto mercoledì 30 ottobre il chiostro comunale di san giovanni rotondo il chiostro comunale signa paolo fiorentino se non ricordo perché si ricordi bene chiostro comunale francesco paolo fiorentino in san giovanni rotondo proprio al centro della città l'incontro sarà svolto in mattinata con partenza alle ore 9 abbiamo anche una grafica del dell'evento regia la trovi nei messaggi nei nostri messaggi whatsapp vedo insomma che l'inizio sarà alle 9 poi vari relatori vari interventi fino ad arrivare sostanzialmente avremo proprio della prevenzione parleremo della prima della prevenzione poi del dell'intervento dell'ictus parleremo della riabilitazione post ictus parleremo un pochino di quello che si può fare proprio per evitare che questo evento possa colpire che è diventata una situazione veramente invalidante per molte persone l'ictus e si e si ed è giusto porne porre la giusta attenzione sul tema non mi pare di aver visto la locandina si sarà persa nelle infinite strade del web forse prima o poi la vedremo intanto mi è parso di vedere già in collegamento i nostri ospiti vedo l'avvocato falabella dico bene buongiorno avvocato ben trovato buongiorno guardi io la sento male perché purtroppo sono in viaggio però so che c'era il collega ad amo che oggi avrebbe sarebbe intervenuto in questa trasmissione per parlare di accessibilità di fruibilità si 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 mi è parso mi è parso di vedere anche lui perché per cui le chiediamo semplicemente un saluto avvocato poi ci ritroviamo anche con più calma grazie un saluto a voi e buon proseguimento mi scusa ancora nessun problema allora vediamo se il dottor michele ad amo consigliere della giunta nazionale fisce è pronto come detto parleremo con i nostri ospiti di accessibilità dei mezzi di trasporto intanto graziano ti chiedo qual è la tua esperienza in tal senso lo diciamo che l'accessibilità e per i mezzi trasporto e l'autonomia è un altro un altro dei diritti importanti della persona con disabilità quindi è uno dei diritti fondamentali a tutta la convenzione ono per cui riteniamo opportuno parlarne e opportuno tirare proprio i nostri diritti nostri diritti e diritti proprio dei cittadini italiani e mi sembra e mi sembra giusto vedo in collegamento con noi dottor ad amo buongiorno puoi dirne qualcosa in più buongiorno e ben trovato qual è il punto qual è lo stato dell'arte oggi dell'accessibilità dei mezzi del trasporto buongiorno a tutti salve oggi il tema dell'accessibilità è un tema caldo perché in realtà noi abbiamo l'accessibilità andrebbe affrontata faccio un esempio è come una catena nel senso la catena è efficace nel momento in cui tutti gli anelli della catena sono ben saldi purtroppo noi una nostra caratteristica che abbiamo nei nostri trasporto è che il fatto che i grandi hub in realtà stiamo lavorando molto bene e diciamo che sono accessibili per grandi hub io intendo le grandi stazioni i grandi aeroporti e così e via dicendo il problema è che abbiamo che nel momento in cui andiamo nel micro quindi nel macro funziona abbastanza bene tutto anche se c'è sempre qualche aggiustamento ancora da fare comunque i numeri oggettivamente ci dicono che oggi molte persone con disabilità specialmente persone con disabilità grave gravissime riescono e prendono in considerazione certi tipi di trasporto che fino a qualche tempo fa non venivano neanche presi in considerazione il problema ce l'abbiamo nel microtrasporto per esempio nel trasporto pubblico locale dove per esempio oggi abbiamo gli autobus accessibili e per esempio le fermate non sono accessibili quindi in qualche maniera vanno a inficiare il lavoro che viene fatto a monte perché come ripeto come ho detto prima cioè l'accessibilità va affrontata in un contesto più ampio se no altrimenti certi tipi di attenzioni certi tipi di investimento diventano inefficaci ecco per esempio scusi no 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 ci mancherebbe no proprio per questo dicevamo in apertura sottolineavamo l'importanza di tenere sempre alta la guardia perché poi si tratta di tematiche in realtà non non complesse in sé ma che richiedono tutta una serie di attenzione per nel caso dell'accessibilità ai trasporti per far sì per garantire appunto a chi ne ha bisogno tutti gli step che tutti gli step per accedere al trasporto siano funzionali al trasporto stesso per cui le norme ci sono come abbiamo già detto è importante è prezioso il lavoro che state facendo come associazione con le altre associazioni di categoria proprio per far sì che le norme vengano applicate rispettate perché l'accessibilità come abbiamo prima anticipato ci sono dei punti fondamentali che dovrebbero essere rispettati alcuni dei punti abbiamo evidenziato come associazione le infrastrutture abbiamo evidenziato le stazioni le fermate dovrebbero essere progettate con rampe ascensori percorsi senza ostacoli segnaletica chiara visibile fondamentale però questo ancora non si vede cioè parliamo del percorso urbano no forse l'amministrazione pensa che inserire un autobus urbano solamente con la rampa hanno risolto il problema però hanno pensato solo ad un tipo di disabilità ma la disabilità non è solo una come abbiamo sempre detto dall'inizio quindi noi dobbiamo pensare a 360 gradi tutte le disabilità quindi è ora che tutte le amministrazioni tutte dovrebbero confrontarsi anche con le associazioni di categoria parlarne con i diretti interessati ovviamente abbiamo anche istituito il garantisabile comunale il garantisabile comunale è una figura che deve essere sempre messa al tavolo istituzionale al tavolo tecnico sempre come figura proprio per garantire il diritto del disabile quindi quando si fa un progetto perché non coinvolge l'associazione di categoria e il garante per quale motivo esatto esatto sicuramente pensa di risolvere il problema dice inserisco l'autobus con la rampa per i disabili e ho risolto il problema ma non è proprio così invece non è così ecco in realtà occorre anche dire questa è non soltanto percezione mia personale penso sia un dato oggettivo che negli anni siano stati fatti tanti passi in avanti e questo ecco come dire una nota al merito dei cittadini prima ancora che delle istituzioni perché come detto prima se le norme vengono disattese restano lettera morta però questo ecco non vuol dire adesso accomodarsi sui traguardi già raggiunti dobbiamo essere sempre più inclusivi per cui è opportuno e giusto l'appunto che fai graziano bene in conclusione dottor adamo cosa dobbiamo ecco cosa dobbiamo cosa dobbiamo aspettarci da i prossimi mesi prossimi anni che cosa possiamo fare per rendere quest'inclusione ancora più reale e concreta allora in realtà oggi il vero ostacolo che noi dobbiamo affrontare le norme esistono il problema è che le norme se non sono sorrette da un'impalcatura da un contesto culturale spesso vengono disattese come diceva collega oggi come associazione come federazione come fisce noi veniamo sempre più spesso coinvolti dalle varie istituzioni per esempio noi abbiamo tavoli permanenti aperti col ministero della cultura con il ministero della salute con il ministero dei trasporti ecco quello che noi osserviamo e che noi vorremmo e che quello che in parte sta accadendo è quello di essere coinvolti perché spesso le soluzioni tecnologicamente migliori forse non sono le più adatte faccio l'esempio spesso nell'amministrazione pubblica è capitato che vengono installato degli ascensori magari questi ascensori hanno la pulsantiera touchscreen come i cellulari ecco per esempio una persona non votente anche se viene fatto un investimento importante di un ascensore funzionale per tanti tipi di di disabilità per quel tipo di disabilità non è adatto e per esempio potrei fare anche nelle grandi ecco nelle stazioni ferroviarie le comunicazioni vengono fatte in maniera orale tramite gli autoparlanti ecco una persona sorda se non vengono anche date le informazioni su monitor non può usufruire di quel tipo di sistema ecco è importante coinvolgere le associazioni proprio perché alcune soluzioni devono essere in qualuniera concertate insieme perché appunto alcune volte la praticità è importante perché come diceva il collega prima i tipi di disabilità oggi il tema è la disabilità è complesso perché la disabilità è un mondo è una galassia mettere insieme tutte cose tutte queste esigenze bisogni non è difficilissimo se ascoltate le associazioni e se vengono coinvolte bene ed è per questo che noi riteniamo opportuno parlarne ne lo facciamo ogni venerdì con inclusione in onda per cui io vi ringrazio per essere stati con noi oggi grazie dottor adamo per il suo contributo grazie a voi e grazie al presidente dell'associazione gli amici di san pio graziano leuzzi che ha che ha fortemente voluto anche questa rubrica che ci fa veramente molto felici io devo dire grazie a voi perché con questa rubrica noi riceviamo molte telefonate molte mail di ringraziamento perché stiamo dando veramente un aiuto per ogni 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 puntata veniamo seguiti e quindi ci dicono grazie perché questa normativa non sapevamo grazie dovete ringraziare il dottor farabella perché questa cosa che ha detto veramente è stata d'aiuto perché avevamo un problema con questa cosa ci ha dato la spinta utile per poter andare avanti bene allora continuiamo così caro graziano e l'appuntamento è a venerdì prossimo sempre verso le 9 su padre pio tv e quindi arrivederci la prossima settimana grazie a voi